. GF VIP, l'anno che verrà, la lista definitiva degli ospiti, ci sarà anche Malgioglio? VINZUIDEN. E' stata appena pubblicata la lista degli ospiti del Capodanno di Rai 1, che andrà in onda il 31 dicembre 2017 in diretta da Maratea. . Novità per quanto riguarda il Cancelletto Capodanno di Rai 1 2017-2018. Come si sa già da tempo, a condurre il programma l'anno che verrà che trascinerà i telespettatori all'anno nuovo ci sarà per il terzo anno di fila a Madeus. Così come sappiamo, che ospiti di punta della trasmissione saranno Albano e Romina, una delle coppie più amate di sempre della musica italiana. . Ma le presenze sul palco di Maratea, in Basilicata, saranno tantissime, per assicurare al pubblico da casa un evento memorabile, come sono stati i precedenti capodanni del primo canale della TV di Stato. . Sono anni, infatti, che l'anno che verrà è la trasmissione preferita da chi preferisce festeggiare l'anno nuovo in casa con la televisione accesa. . Nulla ha mai potuto la concorrenza di Canale 5 che, negli ultimi anni ha trasmesso il capodanno con Gigi D'Alessio. Negli ultimi ma non in questo, Mediaset ha infatti voluto cambiare tutto e dare la conduzione a Federica Panicucci che con il suo capodanno in musica porterà sul palco dell'Unipo l'Arena di Bologna, nomi della musica italiana che piaceranno soprattutto ai giovani come Francesco Gabbani, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Ermal Meta, Annalisa e Fabrizio Moro. . Quale sarà la risposta di Amadeus? Amadeus non sarà solo nella conduzione. Anche Malgioglio nel cast. . Prima novità, emersa in queste ore, per quanto riguarda il capodanno di Rai 1 è che Amadeus non condurrà in solitari all'anno che verrà il quale si terrà in piazza Europa, nella splendida cornice di Maratea. . 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 Grazie per la visione